Ah vedi questa sbentolona? Avevo cucina dentro casa, ora ti insegno io. Marinamola, massaggio bene con sale. Sto grasso è troppo, levaglielo un po', che ti ci fai? Impacchi una grattata di pepe e poi coprila. E ora salite almeno tra tre ore, così diventa questo, lo zucchero. Oh, vedi come è stato po' tre ore? Scegli la parte più alta per infilare il termometro. Metti il forno pentilato a 90 gradi, metti questa sleppa dentro al forno e ora devi arrivare a 40 gradi, è pronta. Levagli le erbette, mo metti sopra e sotto a 250 gradi. Olio, eh? Falla un attimo riposà, un secondo, perché se no esce tutto il sangue, e noi non volevo il sangue da fuori. Ma che problema ti ho risorto? Tu moglie non ti potrà più di niente. Se la mangia pure lei, se la mangia stavolta la carne. Come dice la Roma, segna e porta a casa, due chili e tre fatta solo al forno. Guarda che ti ho fatto. Abbiamo vinto questa scommessa.